La situazione del dissesso stradale a Monte di Procida è sotto gli occhi di tutti, tra l'altro ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Ora sono per arrivare i fondi straordinari dell'Europa, del PNRR, che pare che vogliono essere usati per una ripavimentazione stradale, ma ahimè, quei fondi straordinari devono essere, ci auguriamo che siano utilizzati anche a Monte di Procida, ma li dobbiamo utilizzare per l'isolotto di San Martino, per esempio, che sta sprofondando, per una rigenerazione urbana di Monte di Procida che dia un volto diverso, per esempio affrontando anche la problematica del cinema faro, che oramai è una cattedrale nel deserto. Queste sono le cose straordinarie che con i fondi del PNRR potremo affrontare e dare un volto diverso a Monte di Procida. Non mi stancherò di dire che oggi i comuni italiani, per effetto del Covid, sono inondati di quattrini dallo Stato italiano, dalla regione Campania, dalla città metropolitana ed ora anche con i fondi dell'Europa che provengono dal PNRR. Bisogna avere fantasia progettuale ed idee per dare a Monte di Procida un volto diverso ed anche opportunità lavorative per i tanti giovani disoccupati di Monte di Procida.